Ciao carissimi, oggi 2 luglio 2024, io condivido con voi il video dell'approfondimento giornaliero dalla zona dell'operazione militare speciale, oppure come ormai in molti chiamano questo conflitto, la guerra tra la Russia e l'Occidente collettivo sul territorio dell'ex Ucraina. In questo video vi racconterò le notizie più importanti che sono avvenuti in prima linea e anche nelle retrovie di questo conflitto negli ultimi 24 ore. Innanzitutto cari amici partiamo dalla Crimea dove la scorsa notte le autorità e le forze di difesa hanno rispinto nuovamente un attacco delle forze armate ucraine organizzato utilizzando missili lanciati dall'aria. Si tratta di due tipi di missili, Storm Shadow e Scalp, sono entrambi missili occidentali che sono stati forniti all'Ucraina dalla Nato e che vengono utilizzati anche con l'aiuto della Nato, con satelliti, con specialisti della Nato. Quindi per l'ennesima volta l'Occidente ha bombardato il territorio russo utilizzando le proprie armi, ovviamente con le mani degli ucraini, gli ucraini in questa fase diciamo fanno i lavori proprio manuali, i lavori più stupidi, mentre la progettazione di questi colpi è occidentale. Per pura fortuna e anche per bravura delle forze di difesa antiaerea russa sono riusciti a evitare i danni, tutti i missili sono stati abbattuti, non ci sono stati gravi distruzioni o incendi. Nelle regioni di Belgorod purtroppo, cari amici, sono state segnalate interruzioni di corrente che secondo i dati ufficiali degli ingegneri di energia che si occupano della manutenzione della linea erano dovute a influenza esterna. Questa è la forma tipica dei dipartimenti civili durante sabotaggi e attacchi terroristici che esulano dalla loro competenza. Diciamo che se gli ingegneri civili usano questa formula vuol dire che c'è stato qualche danno da parte dei terroristi, dei sabotatori. I principali canali russi hanno già riferito di diversi ordini esplosivi che sono stati piazzati nelle sottostazioni che ovviamente indicano l'azione dei terroristi, dei sabotatori filo-ucraini che agiscono sul territorio della regione di Belgorod. Le forze armate russi hanno lanciato un attacco preciso sul aeroporto di Myrgorod ieri e hanno distrutto due aerei su 27 ucraini, mentre altri quattro sono stati pesantemente danneggiati. In direzione Kharkov, cari amici, l'esercito ucraino sta accumulando riserve nell'area dell'insediamento Glubo, che pesanti combattimenti continuano a Volchansk. I combattenti russi del gruppo Nord hanno rispinto un contrattacco delle forze armate ucraine che contavano fino a 30 persone nella parte orientale della città. Secondo le stime russe dell'intelligence militare locale, la 57esima brigata di fanteria delle forze armate ucraine, precedentemente ritirata per rifornimento, è stata portata e distrutta in prima linea battaglione per battaglione e adesso dai loro resti gli ucraini stanno formando i gruppi d'assalto separate che sono composti da poche decine di uomini. Questa purtroppo è la triste realtà dell'esercito ucraino. loro riducono le loro brigate ormai a riparti separati che contano poche decine degli uomini. In direzione di Seversky, cari amici, sono in corso i combattimenti locali a nord della Razdolovka, recentemente liberata dall'esercito russo. Adesso sono in corso le battaglie anche per Sporne. In questa direzione i russi stanno allargando la loro zona di influenza. I combattimenti continuano anche nella parte orientale di Chasov-Yar. L'esercito russo cerca di rallentare, perdonatemi, l'esercito ucraino cerca di rallentare l'avanzata dell'esercito russo, satura il personale, la parte occidentale della città e costruisce difese lungo il canale idrico Seversky-Donetsk-Donbass. Tuttavia i russi stanno avanzando lo stesso, hanno dalla loro parte sicuramente il potere di artilleria, l'aviazione e hanno tutta l'iniziativa. Continuano le operazioni d'assalto dell'esercito russo a est di Toretsk, che si chiama sulle vecchie mappe Dzerzhinsk. Ci sono battaglie nelle aree di Kirov, Druzhba e Shum. In questa direzione i russi hanno la totale iniziativa e stanno avanzando. A ovest di Avdeevka si svolgono pesanti battaglie nell'area dell'insediamento Sokow. Da Nitalova le forze armate russe attaccano costantemente nella zona di Karlovka. Le forze armate ucraine appongono una accanita resistenza e stanno radunando le riserve per evitare di rimanere con la linea sfondata anche in questa direzione. Le battaglie continuano per Konstantinovka a ovest di Paraskovievka. I russi stanno avanzando anche qui, gli ucraini stanno abbandonando le loro linee, le loro linee difese. Qua il problema degli ucraini è la mancanza di tutto il rifornimento, quindi la logistica funziona molto male. I russi stanno controllando con l'artilleria le principali vie della logistica. I riparti operativi ucraini non riescono a rimanere in prima linea senza viveri, senza munizioni, senza medicinali e quindi sono costretti di abbandonare tutto e ritirarsi. Sul fronte di Zaporozhye le forze armate russe hanno aumentato decisamente l'intensità degli attacchi in direzione Kamenskaya. L'artilleria a razzo russa opera quotidianamente e vengono utilizzati anche i sistemi di lancio multiplo di razzi reattivi non guidati con testate termobariche TOS-1A Sonsipiok. Voi sapete questa terribile arma, i russi non la utilizzano lì dove ci sono tanti civili, utilizzano solo nelle zone dove rimangono esclusivamente militari ucraini. In condizioni difficili in direzione di Kherson è in corso un assalto alla zona delle isole, il problema è rappresentato dai droni ucraini e a quanto pare dalla mancanza di rifornimenti centralizzati di imbarcazioni di piccole dimensioni. Qua Keremice le truppe russe non hanno queste piccole barche dei quali hanno bisogno quindi sono stati anche aumentati le richieste dei militari russi nei vari social dei volontari proprio di trasferire a loro queste piccole imbarcazioni che servono per spostarsi tra le isole nelle zone un po' paludose, in quelle zone del fiume dove anche grandi barche non funzionano. Il problema è proprio di mancanza del funzionamento della logistica, però dall'altro canto bisogna dire che c'è il ministero della difesa russo che evidentemente in questo caso sta dormendo oppure sta diciamo pensando di altre cose e quindi i militari russi sono costretti a chiedere aiuto ai volontari. Nella regione di Belgorod invece i civili continuano di essere sotto costanti bombardamenti terroristici da parte dell'esercito ucraino. Il villaggio di Nuova Eta Valjanka, distretto urbano di Szebekensky, è stato bombardato 11 volte negli ultimi 24 ore. A seguito di un bombardamento sul territorio di un'azienda agricola un civile è rimasto ucciso purtroppo. In serata a Szebekeno due civili sono rimasti feriti da un attacco di droni delle forze armate ucraine e hanno ricevuto ferite anche da schegge. A seguito dei massicci bombardamenti da parte delle forze armate ucraine di Belgorod e della regione di Belgorod sono rimasti feriti. Nella regione di Kursk il checkpoint Sudza, il villaggio Zaolèšnia, Sverdilkava, Guiva, Gornalolèšnia, nel distretto di Sudzansky, Tiotkina, Красnooktiabriski, Sergeevka, Veselo e Elisavetovka, nel distretto di Glushkovski, Gardeevka, Biahova, Vikterovka, nel distretto di Karinevski sono stati bombardati ripetutamente con l'artilleria da campo e da razzo con sistemi statunitensi contestati a solo nelle ultime 24 ore. Attachi di droni sono stati osservati nella città di Sudza, vicino al villaggio Curilovka, nel distretto di Sudzansky, vicino al villaggio di Garadiše e al villaggio Novaya Nicolaevka, nel distretto di Rilsky, al villaggio di Bogaslovski, nel distretto di Hamatuvski, al villaggio di Gardeevka, al villaggio di Uspenovka, nel distretto di Karinevski, la batteria Atruba, nel distretto di Glushkovski. Nove droni ucraini sono stati distrutti e soppressi nelle zone di confine utilizzando armi leggere e attrezzature REB per la guerra elettronica. In seguito agli attacchi di artilleria delle forze armate ucraine sulla regione di Donetsk, a Garlovka e Machievka, un civile è stato ucciso, cinque sono rimasti feriti, tra i quali due bambini di sei e dieci anni. Questa è la situazione, cari amici, in grande linea. Se volete approfondire le notizie che arrivano dalla prima linea, anche dalle retrovie, le notizie che non passano sul mainstream occidentale, sul mainstream italiano in particolar modo, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram dove ogni giorno pubblico più di 100 aggiornamenti su tematiche diverse, sia notizie dedicate alla guerra in Ucraina, che alla geopolitica in generale, all'economia, alla finanza, a geopolitica, a tutta la cultura che può essere nel mondo. Io racconto di diversi situazioni. La cosa importante è che cerco di raccogliere le notizie che arrivano dalle agenzie non occidentali, notizie che di solito non passano nell'Occidente. è molto importante sapere cosa pensano arabi, cosa pensano indiani, cosa pensano cinesi, russi, vietnamiti e così via. Queste notizie ci fanno capire come funziona il mondo, in che situazione adesso si trovano certe parti del nostro mondo e non bisogna mai sottovalutare le voci degli altri per capire quello che succede anche da noi. È spesso molto importante sapere cosa gli altri pensano di noi e di nostro, diciamo, malmesso Occidente. Per questo motivo vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per i vostri donazioni, per i vostri commenti, per le vostre opinioni, tutto questo molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.